Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in Rai dopo la mancata conduzione su canale 5 e battiti live. Ecco che cosa condurrà a partire dal prossimo autunno. La notizia è giunta solo poco fa. Nelle ultime settimane, non si fa altro che parlare di Ilari Blasi e battiti live. Il noto show musicale, è pronto per partire con la ventiduesima edizione. Dopo ben sette edizioni, andate sempre in onda con la conduzione di Elisabetta Gregoraci su Italia 1, quest'anno è passato a canale 5. Come sempre, sarà uno show in prima serata e accanto a Ilari Blasi, ci sarà anche Alvin, suo storico amico e collega. Non solo, ricordiamo anche che sarà presente Rebecca Staffelli, reduce dal grande fratello, che prenderà il posto di Maria Sole Poglio. Insomma, un cambio totale, che ha visto, inevitabilmente, la Gregoraci messa da parte. Ora, però, sembra pronta ad un ritorno clamoroso in Rai, a partire dal prossimo autunno. Tra l'altro, in questo articolo, la sua reazione quando ha scoperto che non avrebbe condotto il famoso show musicale Mediaset. Elisabetta Gregoraci, schiaffo a Ilari Blasi e Canale 5, cosa conduce in Rai in autunno? La conduttrice è pronta a tornare in Rai con un nuovissimo programma dopo la mancata conduzione su Canale 5 di Battiti Live. Una vera e propria rivincita, dunque, dopo l'ultima esclusione da parte di Mediaset. Certo, Elisabetta Gregoraci non è nuova in Rai. Quest'inverno ha condotto Made in Italy, uno show comico con Gigi e Ross. C'erano una serie di comici provenienti da tutta Italia, sulla scia di Made in Sud, che hanno fatto divertire il pubblico in modi e con stili totalmente diversi. Ben sei puntate in totale, con un cast formato da oltre 40 artisti tra cui tanti comici. In una puntata fu anche ospite il mitico Massimo Boldi. I dati Auditel, però, non hanno riportati grossi risultati a livello di ascolti, ma nonostante questo, sembrerebbe comunque presente tra i palinsesti della prossima stagione televisiva. Una cosa, però, sembra essere certa. Elisabetta Gregoraci tornerà in Rai. Questa per lei si è pensato ad una conduzione singola con un programma in onda sempre su Rai 2, e dedicato principalmente alla moda. Non ci sono molte altre informazioni in merito, ma molto probabilmente andrà in onda in seconda serata il lunedì. Pare che si occuperà prevalentemente del costume e del magico mondo della moda, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Anni fa, andava in onda un programma piuttosto simile, sempre su Rai 2, che si occupava di riportare in auge stili e moda degli anni 80 e 90, dal titolo Moda. Non ci resta che attendere la prossima stagione, in particolare l'autunno, per scoprire come sarà strutturato nei dettagli questo nuovo programma condotto dalla bellissima Elisabetta Gregoraci.